Avete presente quella sensazione di pressione ed ansia che ogni tanto ci avvolge mentre giochiamo e ci fa sbagliare giocate quasi banali facendoci sentire stupidi? Beh, se anche tu come me fai parte del club e vuoi scoprire come combattere quella brutta sensazione e giocare al massimo delle tue potenzialità divertendoti e senza preoccupazioni, allora questo video fa per te! Sigla! Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di ansia e agitazione che sono perfettamente normali per chi gioca, in particolare a un battle royale come Fortnite. Quando veniamo messi in situazioni di pressione siamo spesso portati a farci prendere dal panico e il nostro gameplay e lo stile di gioco ovviamente ne risentono e le nostre performance peggiorano. La chiave di tutto è la confidenza. Iniziamo a giocare peggio quando siamo forzati al di fuori di quella che si chiama la nostra zona di comfort, ossia quelle azioni che siamo abituati a fare, quelle situazioni che sappiamo di poter gestire e quindi le affrontiamo con confidenza. Ad esempio, se un giocatore sa che è portato a mancare i colpi col fucile a pompa quando è vicino all'avversario, sicuramente la sua mano inizierà spontaneamente a tremare quando si trova in quella situazione e indovinate un po', il colpo mancherà sicuramente il bersaglio. Un altro esempio può essere che siamo abituati a combattere stando in una posizione sopraelevata più alta del nostro avversario e appena perdiamo una build fight e il nostro avversario è sopra di noi non sappiamo più cosa fare e andiamo nel panico. Beh e ora dirai giustamente, beh grazie al ca... Racciofo, Pulsar, lo sapevo anch'io e quindi? Beh, questo video è proprio fatto per darvi consigli su come abbattere in tutto e per tutto questa insicurezza che vi fa giocare peggio, facendo uscire il vostro vero potenziale e facendovi giocare al massimo delle vostre possibilità. Sapete scientificamente qual è il miglior modo per superare l'ansia che tanto pesa sulla nostra performance? Forzarci in quella situazione che tanto ci procura ansia. Sì, hai capito bene, dobbiamo cercare in tutti i modi di capitare il più spesso possibile nella situazione che ci mette a disagio, in modo tale da abituarci, capire come reagire e soprattutto non avere più quella sensazione di stare in una posizione scomoda, tra virgolette, in cui non siamo abituati a stare. Dunque, come abbiamo detto, il tuo problema è la mira col pompa da vicino? Inizia a saltare addosso a tutti i nemici che vedi, sfodera quel fucile a pompa fino a che non inizierai a capire come agire, quando costruire, quando sparare e diventare più confidente in quella situazione. Il tuo problema è quello di non sapere giocare da sotto? Bene, inizia a lasciare che tutti i nemici che incontri ti costruiscano sopra e inizia a prendere confidenza a giocare in quella posizione di svantaggio. Ovviamente esistono anche soluzioni più graduali e meno drastiche, che ti consiglio di attuare prima di fare quello che ti ho appena spiegato. Ragioniamo prima su quali sono le cose che ci mettono a disagio. In primo luogo, la pressione dell'ambiente esterno. In questo caso, la causa dell'ansia che ci fa sbagliare deriva proprio dalla pressione nell'ambiente nel quale ci troviamo. Ad esempio, se stiamo giocando una solo, siamo andati per un drop sicuro, abbiamo speso 10 minuti a farci l'inventario perfetto, quando troveremo il primo avversario con 15 giocatori rimasti, un cerchio piccolo e l'idea di poter vincere la partita, la pressione sarà alle stelle e perdere quell'1v1 ci farà sentire davvero male e in più ci avrà fatto sprecare un sacco di tempo. Per ovviare a questo, il parco giochi e le modalità a tempo limitato vengono in nostro soccorso per diminuire la pressione che deriva dall'ambiente. Giocando queste modalità e allenandoti nel parco giochi potrai perfezionare e migliorare senza avere la pressione di una partita in solo e senza avere l'ansia di sbagliare qualcosa. Il secondo principale motivo di ansia è il trovarci in una situazione in cui non sappiamo come agire o comunque alla quale non siamo abituati. In questo caso, oltre a infilarti il più volte possibile in quella situazione, puoi guadagnare un po' di confidenza allenando quella specifica parte del tuo gameplay nel playground, come la mira con alcune armi o alcune costruzioni specifiche sulle quali non ti senti forte. In questo modo avrai più confidenza nelle tue capacità e già ti sentirai più sicuro la prossima volta che ti trovi in quella specifica situazione, proprio perché ti sei allenato apposta per quel momento. In più, se non sappiamo proprio come agire, qual è il modo migliore di agire in quella determinata situazione, vi consiglio di andare a vedere come giocano i pro player. Apriamo uno stream, un video di Ninja, Cypher, Nicky30, quello che vi piace di più, e iniziamo a vedere come si comporta in quella circostanza che ci mette in difficoltà. Andiamo ad allenarci a farlo nel playground, poi magari mettiamolo in pratica nelle LTM, ossia le modalità a tempo limitato, dove la pressione è sicuramente minore, in particolare se stiamo giocando in quelle modalità dove è previsto il respawn e si conserva l'inventario. Oltre a queste cose, in generale, vi consiglio di giocare per migliorare e per divertirvi, mai per vincere. Ogni scontro è un'occasione per imparare e migliorarsi, ed evitarlo lanciandosi in punti troppo sicuri all'inizio della partita, e perdendo un sacco di tempo senza combattere. O semplicemente trascorrendo la partita a nascondersi solo perché ci teniamo tanto a raccogliere questa vittoria in più, sarà come rinunciare a un sacco di possibilità di migliorarsi e crescere come giocatori. Ovviamente l'ultimo punto per ridurre l'ansia e il panico, ragazzi, non ci prendiamo in giro, è ovviamente giocare. Più giochiamo, più ci troviamo in situazioni scomode, più impariamo come gestirle. E più velocemente saremo in grado di mantenere la calma, analizzare la situazione e dare il massimo ad ogni partita. Ma se anche tu, come me, non hai tantissimo tempo da dedicare al gioco, spero comunque di averti dato qualche consiglio utile, qualche strumento per migliorarti sotto questo punto di vista. Ma soprattutto divertendoti anche di più durante le tue sessioni di Fortnite. Smetti di avere l'ansia di voler vincere tutte le sante partite, droppa in mezzo alla gente, corri contro i nemici, sparagli in faccia, morirai un sacco di volte ma chi se ne frega ti divertirai molto di più. E il fatto di non pensare alle vittorie ti farà divertire sicuramente di più quando a fine serata, magari, andrai a letto senza essere riuscito a vincere neanche una partita. Ma ci andrai arricchito di tutti gli scontri che hai fatto e di tutte le cose che hai imparato durante la serata. Se pensi che possa aiutarti, non esitare a iniziare le sessioni di gioco con qualche minuto nel parco giochi per rinfrescare magari le tue meccaniche di gioco e qualche partita nella modalità tempo limitato per rilassarti un po' di più e non sentire la pressione della solo. Dopo sarai sicuramente più pronto e concentrato per lanciarti nelle partite di solo, divertirti ad affrontare gli avversari e magari, senza nemmeno accorgertene, portare a casa una vittoria reale, senza aver visto che quello che stai uccidendo è l'ultimo avversario perché tanto stai pensando solo a divertirti, a correre verso tutto quello che si muove e che fa rumore. Ma soprattutto ricordati la cosa più importante di tutte, cioè che quello che abbiamo detto fino adesso non si applica solo a Fortnite e a tutti gli altri videogiochi, ma si applica anche alla vita reale. Questo fattore di abbattere l'ansia mettendosi nella situazione che ce la provoca sicuramente può essere utile in tantissime altre situazioni. In più il fatto di allenarsi per sentirsi più preparati quando si affronta la situazione, come ridurre la pressione dell'ambiente esterno esercitandosi magari in un ambiente che di pressione ce ne causa di meno. Insomma, tutte queste cose possono essere utilizzate per abbattere i nostri problemi di panico e ansia quotidiani. E in più ricordati che la chiave di tutto sta nella confidenza. Più siamo confidenti, più ci sentiamo a nostro agio in quello che stiamo facendo, più lo faremo meglio e potremo sfoderare il 100% della nostra capacità e delle nostre abilità senza preoccuparsi troppo di tutto il resto. Anche per questo video, ragazzi, è tutto. Ricordati di lasciare un like se il video ti è piaciuto e se vuoi altri video come questo, iscriviti al mio canale, vai a vedere quelli che ho caricato in precedenza e mi raccomando, dai una botta a quella campanellina per vedere quelli che devo ancora caricare perché altrimenti YouTube non ti avvisa quando li carico. Grazie da Pulsar e ci vediamo al prossimo video. Ciao, bella! e poi un po' esagitato ma secondo te due ore che piazzi giù trappoli mamma mia mamma mia sono stato bravo sto migliorando aveva anche il pompa super figo raga, sto migliorando un pochino, piano piano si migliora prendo anche quei due di vita, non mi interessa poi c'è un medikit che vado a prendere se non arrivasse nessuno adesso mi farebbe abbastanza piacere essere onestero lo sapevo anche lo sapevo, lo sapevo ne avesse perdono oh che cretino questo è il fail più grande della mia storia sopporta dai per fortuna che sto stremmando perché questo rimarrà nella storia io che me la tiro perché sto diventando bravo e dopo che corro in una trappola che due ore che dico secondo te ci entro lì dentro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.